La casa editrice nella storia ha fatto migliaia di libri e di tutti i generi, da collaborazione universitaria alla riscoperta dei classici della letteratura. Elisabeth Gaskell, abbiamo riscoperto questa autrice vittoriana inglese di metà ottocento, braccio destro di Dickens, e la casa della brughiera è il romanzo che sta andando per la maggiore. Cercare di riportare in auge le librerie croce e i circoli culturali che veramente hanno fatto la storia della cultura di questo paese. Grazie.